Grazie. 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 e non sono solo stagioni, stagioni o tapestri, ma anche objets d'art, fissure di tutto tipo. Upstairs puoi anche trovare i costumi dei balletti di Norieff. È un'incredibile collection, è molto eclectico. Per creare arazzi, ma anche diversi pezzi di immobilio che venivano da tutto, specie di legnatori che lavoravano con le piangature, erano dei grandi fissi. Le Brun, per esempio, le Brun, non si se le cante, a parte del cuore, ma che manca la cosa, dove è la cosa? Diciamo che avere dei nuovi Blun, in una collezione, come si chiedono l'Otri spiegati a parte della mia stagione? Mentre le tre tiepolos sono molto significanti. Sono sempre gli altri, per un nuovo tiepolo, per essere parte di un'azietà private, per essere un'azietà di un'azietà di un'azietà. e quindi sono sicuramente uno dei miei top favori. I would also say the commode of the King of Poland, che è right at the entrance. Then I would say the Francesco Cairo portrait of Judith, the kiss, che è una rappresentazione di Faustus e Marguerite, di Antonio Tantardini, che è un sculptor del 19th century, working especially in Milan. Ma ci sono molti altri. I would say that a lot of pieces are incredible. I think that we are very privileged to have an online company, so much passionate and dedicated to art. So I think that it would have been a big mistake and a shame to keep all this big value of art just for us, and not only for the hotel guests. So in a certain sense we are opening our doors to the hotel, to everybody that wants to come to visit us, spend time with us, and in the same time enjoying the art collection that we have. movie่ Justine Film 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 il girone nel quale c'è uno sinistra e destra, e vedete che le tubule sono piccolissime, non sono così altra? Questo è in contrasto con l'art collection che abbiamo qui, che è principalmente based sui 17-18 secoli. Quindi, un po' di astonimento, e, ovviamente, un po' di sorpresa, quando sono arrivati, vedendo e scoprire cosa possiamo offrire. ... 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